Da 499 nel 2015 a 425 nello scorso anno, con una flessione del 15%, sono in calo anche a Piacenza, in linea con il trend regionale attestato attorno al 9%, le interruzioni volontarie di gravidanza. Un dato, quello regionale, che conferma la curva di riduzione che ha caratterizzato gli ultimi anni, in particolare dal 2004, quando in tutta l'Emilia-Romagna erano state registrate quasi 12.000 interruzioni. Nell'arco di 13 anni il calo è stato del 40% e riguarda sia donne italiane che quelle residenti con cittadinanza straniera. Sono dati importanti che confermano quanto sia fondamentale una scelta consapevole di maternità, sottolinea Sergio Venturi, assessore regionale alle politiche per la salute. Si conferma, secondo l'assessore, il ruolo centrale del consultorio familiare nell'assistenza al percorso dell'interruzione volontaria di gravidanza e come luogo dove ottenere il certificato per poterla effettuare. La scelta del consultorio prevale nettamente tra le cittadine straniere, l'80%, ma negli ultimi anni è diventato sempre più un punto di riferimento anche per le donne italiane. Il tema della sessualità e della gravidanza viene affrontato anche nelle scuole da parte degli spazi giovanili consultoriali. Tutti i progetti sono stati inseriti nel piano regionale della prevenzione 2015-2018, in modo da garantire un miglior governo della tematica e monitoraggio locale.